Si rafforza con il potenziamento della rete oncologica siciliana il patto di salute fra il sistema sanitario regionale e i cittadini. La svolta con l'offerta di nuovi percorsi terapeutici e nuovi servizi alla popolazione è stata presentata oggi a Palermo a Palazzo Steri nel corso di un seminario organizzato dalla regione siciliana tramite l'assessorato della salute. Lo sviluppo della rete oncologica siciliana, dice il presidente della regione Renato Schifani, si traduce nella possibilità offerta ai cittadini di accedere alle cure migliori su tutto il territorio regionale in modo uniforme ed equo. Questo inoltre permetterà ai pazienti di essere curati vicino alla propria casa, ai propri cari, riducendo in modo sensibile il fenomeno della migrazione sanitaria. In particolare, oltre ai nuovi percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, l'incontro è servito per mostrare la nuova sezione del portare e costruire salute dedicata alla rete oncologica siciliana. Il sito Costruire Salute, il portale istituzionale dell'assessorato regionale della salute della regione siciliana, ospita una sezione dedicata alla rete oncologica, una sezione ricca di contributi che attengono non soltanto all'ambito squisitamente normativo relativo ai PTDA, ma anche una sezione che contiene le informazioni necessarie a tutti coloro che hanno una patologia oncologica di poter essere curati secondo un percorso di assistenza multidisciplinare, verticale, orizzontale, quindi un'assistenza completa di cura e trattamento in Sicilia, nella nostra regione. La punta di diamante di questa sezione, tutta dedicata alla rete oncologica, è la mappa interattiva. Grazie alla mappa interattiva, ciascun cittadino potrà individuare immediatamente, selezionando la patologia tumorale di riferimento, i centri che sono sul territorio regionale. L'individuazione corrisponde anche l'indicazione del referente del centro con i contatti, e grazie alle mappe disponibili su Google Maps, sarà possibile anche individuare il tragitto più semplice da compiere a partire dal punto di partenza e fino a raggiungere il centro di riferimento. Questo è un importante tassello che consente, che dà un ulteriore strumento ai cittadini per poter essere garantiti nella tutela della salute. Oggi, dice l'assessora alla salute Giovanna Volo, intervenuta nel corso del seminario, segniamo il raggiungimento di un obiettivo importantissimo. Attraverso la rete oncologica siciliana, costruiremo una stretta sinergia fra strutture sanitarie e territorio. La rete oncologica siciliana, aggiunge inoltre l'assessore alla famiglia Nuccia Albano, deve rispettare le linee guida nazionali, garantire gli utenti con percorsi diagnostici uguali a quelli delle regioni più avanzate, evitando così il ricorso a cure fuori dall'isola, che da un lato incidono sull'economia delle famiglie, e dall'altro costituiscono un danno psicologico per i pazienti che devono affrontare i viaggi lontani dagli affetti più cari.